Musica Bombardamenti aerei su Kiev, combattimenti a Kherson, al nord i russi cominciano il ritiro e si riposizionano al sud. Attacco ucraino a Belgorod in territorio russo. Rimane chiuso il corridoio umanitario a Mariupol. Pericoloso lasciare la città. Oggi a distanza riprendono i negoziati. Fine dello stato di emergenza per il Covid, ma non è un liberi tutti. Da oggi si allentano le misure restrittive, cambiano le regole del Green Pass. La mascherina al chiuso rimane obbligatoria. Tra le più grandi città italiane la capitale è tra quelle a maggior rischio povertà. Particolarmente preoccupanti le condizioni dei minorenni sono i risultati che emergono dal rapporto 2021 curato dalla Caritas di Roma. Edizione di Mezzogiorno ben ritrovati negli studi di TG2000. Dunque i russi cominciano a ritirarsi dal nord dell'Ucraina per riposizionarsi al sud. Da Mariupol l'attenzione rimane altissima. Non ci sono ancora le condizioni per aprire il corridoio umanitario. Intanto le forze dell'Ucraina attaccano un deposito di carburante in territorio russo. Massimiliano Cocchi. Il trentasettesimo giorno di guerra, quello che dovrebbe segnare la ripresa dei negoziati, si apre con le fiamme che avvolgono questo deposito petrolifero di Belgorod, città russa, poche decine di chilometri dal confine. Due elicotteri ucraini sarebbero entrati nello spazio aereo russo colpendo almeno otto serbatoi, un tentativo di rendere ancora più difficoltoso il rifornimento di carburante per le truppe di Mosca. Il Ministero della Difesa russa da parte sua dice di aver colpito a sua volta strutture petrolifere ucraine nel Donbass e di aver abbattuto un elicottero nemico nei pressi di Mariupol. Le poche immagini riprese con i telefonini e che riescono ad essere spedite fuori raccontano l'orrore che sono costretti a vivere i circa 100.000 civili rimasti intrappolati a Mariupol dove non c'è acqua, non c'è corrente elettrica, dove ad uccidere sono le bombe, ma anche la fame e il freddo e dove i morti vengono seppelliti per strada. A metà mattina sembra essere fallito l'ennesimo tentativo di aprire un corridoio umanitario per portare aiuti in quella che è la città martire di questa guerra, anche se poco fa tre mezzi della Croce Rossa da Zaporizia hanno ricevuto il Via Libera. Nonostante l'annuncio di una riduzione dell'attività militare, pesanti bombardamenti russi sono stati segnalati nella zona di Kiev a Cernikiv, mentre i russi si stanno riposizionando a sud, in particolare si combatte nella zona di Kherson. Nella notte con un messaggio video è tornato a parlare il presidente Zelensky, ha detto di aver licenziato due alti funzionari della sicurezza, definiti traditori, e ha denunciato che le forze russe si stanno raggruppando e si preparano a sferrare possenti attacchi contro il Donbass. Proprio nel Donbass ieri è morto un combattente italiano, si chiamava Eddie Ongaro, aveva 46 anni ed era arrivato qui nel 2015 per unirsi alla lotta dei gruppi separatisti filorussi. E a Kiev è in arrivo la presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola, un segnale importante per dimostrare il sostegno dell'Unione europea ai cittadini e alle autorità ucraine, la prima leader dell'Unione a visitare il territorio ucraino dall'inizio del conflitto, in un momento in cui i 27 stanno studiando la possibile adesione di Kiev in viaggio verso Kiev, ha postato sui suoi social, come vedete, la presidente. Diplomazie e negoziati vanno avanti a rilento, oggi nuovo colloquio a distanza fra le due delegazioni. Putin intanto impone il pagamento del gas in rubli, un ricatto secondo l'Unione europea. Per Luigi Vito. Tre giorni fa i colloqui in presenza a Istanbul, oggi le delegazioni russa e ucraina tornano a incontrarsi, ma a distanza e davvero sembrano più lontane le parti in causa. Se martedì si era respirato un clima di ottimismo tra Kiev che offriva la propria neutralità e Mosca che accettava l'ingresso nell'UE dell'Ucraina, il conflitto sul campo mantiene la sua crudezza, difficile fare passi avanti. Ostenta speranza il ministro degli esteri turco Cavusoglu, convinto che i suoi colleghi Lavrov e Kuleba potranno tornare al tavolo dei negoziati entro un paio di settimane. Intanto per l'Occidente l'energia resta il principale terreno di scontro con Mosca. Putin ha firmato un decreto che prevede il pagamento esclusivamente in rubli delle forniture di gas. Ma la mossa sembra più di immagine che di sostanza. Gli acquirenti in realtà potranno pagare in euro attraverso conti speciali aperti in Gazprom Bank, il braccio finanziario del colosso energetico Gazprom. Così facendo le materie prime continueranno ad arrivare verso l'UE e la valuta dei paesi ostili verrà cambiata in rubli dalla banca non colpita dalle sanzioni. Nelle cancellerie europee ci si arrovella su come e dove trovare alternative alla dipendenza dalla Russia. Il problema tocca in particolare la Germania che importa da Mosca il 55% del suo fabbisogno di gas. E se Berlino dovesse virare su una austera economia di guerra, ripercussioni ci sarebbero per tutta l'Unione, richiedendo una solidarietà equivalente a quella attuata per fronteggiare la pandemia di Covid. Significativa in questo senso la telefonata di ieri sera tra il nostro Premier Draghi e il cancelliere Scholz, decisi a lavorare per la coesione europea e il mantenimento delle sanzioni contro la Russia. E in questa, che secondo l'UNHCR è la peggior crisi umanitaria in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, 6 milioni e mezzo di civili ucraini sono sfollati interni. 4 milioni invece scappano lontano dalla propria terra, si rifugiano in altri paesi, paesi come la Moldavia, dove per noi c'è l'inviato Maurizio Dischino. Buongiorno a te Barbara, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Stiamo parlando da Chisinau, la capitale della Moldavia, un paese piccolo e povero che da solo ha accolto 385 mila persone, molte sono già andate via, 98 mila le persone che sono rimaste in questo paese, per lo più accolte da privati, questa è la cosa molto bella, famiglie privati che stanno accogliendo i profughi ucraini che scappano dalla guerra. E tra i privati c'è la Casa della Providenza, questa che vedete alle mie spalle, con suor Rosetta Benedetti, suora che è qui dal 2009, originaria di Segonzano, in provincia di Trento. Questa Casa, già dal 27 di febbraio, tre giorni dopo l'inizio della guerra, ha cominciato ad accogliere donne e bambini che scappavano dalla guerra in Ucraina. Loro sono le suore della Providenza, ma la Providenza è quella cosa concreta che loro stesse sono e stanno facendo in questa casa. Buongiorno, suor Rosetta. Ecco, come state concretizzando la Providenza che è il vostro carisma? Per noi la Providenza in questo periodo si è trasformata in una mamma, una mamma che ha sempre le braccia aperte per accogliere tutti questi figli che scappano dalla guerra, pieni di paura e di sofferenza nel cuore e molte lacrime negli occhi. La Providenza si è concretizzata qui da noi, donandoci ciò che era necessario perché noi possiamo aiutare questi fratelli affinché soffrano il meno possibile. La Providenza, mamma, cammina davanti a noi e ci lascia i suoi doni tutti i giorni perché più aumentano i fratelli da accogliere, più aumenta lei con i suoi doni. Quindi la Providenza abita qui con noi e vive con noi e sentiamo veramente la sua presenza. La Providenza siete voi, suor Rosetta. Lei non lo dice ma in questa casa dal 27 di febbraio hanno accolto finora 551 persone e al momento tra Casa Providenza e il centro Fides che ha alle spalle ci sono 92 persone, donne e bambini e questa sera sentiremo alcune di queste testimonianze nel Tg delle 18.30. Grazie suor Rosetta e da Chisnau, capitale della Moldavia, la linea può tornare allo studio. Grazie Maurizio Dischino e suor Rosetta Benedetti. E fra coloro che scappano ci sono purtroppo, come vi stiamo raccontando, anche tanti bambini, bambini senza genitori. Su questo Caterina Dall'Olio ha sentito il presidente del Tribunale dei Minori di Bologna. Molti di questi ragazzi, di questi bambini, anche piccoli, arrivano in Italia e quindi in Europa, ma guardiamo abbiamo un osservatore italiano, con genitori ma moltissimi anche senza, con figure alle quali i genitori li hanno affidati e qua già siamo in una ipotesi ancora un po' più tranquillizzante, ma anche con figure che invece sono estranei ai bambini stessi. Quindi il rischio, il primo rischio io direi che del quale ci dobbiamo fare carico è della grande sofferenza che questi bambini vanno ad incontrare. E poi le insidie, le insidie che evidentemente sono state già messe in evidenza anche dalle autorità ucraine che ci hanno tenuto a dare anche delle loro indicazioni rispetto alle modalità di attraversamento del confine di questi bambini e a quello che loro si aspettano anche in Europa rispetto alla loro accoglienza. Le insidie sono tante perché ci possono essere effettivamente delle realtà anche criminali che possono avere l'intenzione di strumentalizzare questo grande dramma per poterò eventualmente mettere in movimento dei meccanismi di adozione illegale o addirittura per cose molto molto più gravi che possono essere quelle della tratta, lo sfruttamento, l'avvio alla prostituzione, questo sia di maschietti che di femminucce cioè non cambia molto a questo punto. Quindi è chiaro che l'allarme c'è. Cambiamo argomento, primo giorno con misure meno restrittive in Italia dopo la fine ieri dello stato di emergenza per il Covid, ma i contagi rimangono alti. Elena Seno. Archiviato ieri 31 marzo lo stato di emergenza, continua nella gestione ordinaria la lotta al coronavirus perché non c'è un pulsante off che spegne la pandemia, ha avvertito stamane il ministro della Salute Roberto Speranza. Dal monitoraggio settimanale emerge un indice di trasmissione R&T ancora sopra la soglia critica e in salita all'1,24 dall'1,12 dal report precedente. Lieve calo invece per l'incidenza settimanale. 836 casi ogni 100.000 abitanti, erano 848 nel monitoraggio scorso. Sale di poco il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid e delle terapie intensive al 4,7% dal 4,5%. Aumenta anche quello delle aree mediche, si attesta al 15,2% contro il 13,9% di sette giorni fa. Questo è il quadro che richiama ancora la prudenza. Mascherine al chiuso obbligatorie fino al 30 aprile, ha ricordato il ministro Speranza, che sulla quarta dose di vaccino ha poi indicato, non sarà per tutti, si valuta a livello europeo per i più anziani. Da oggi le nuove regole per un graduale ritorno alla normalità. Stop al Green Pass rafforzato per bar e ristoranti all'aperto e nel trasporto pubblico. Sui mezzi resta però l'obbligo della mascherina FFP2. Abolita la quarantena per contatto stretto con un positivo, e possono tornare al lavoro con il certificato base che si ottiene con un tampone negativo gli over 50 che non sono vaccinati. E l'emergenza sanitaria, lo sappiamo, non ha fatto altro che peggiorare la condizione di quanti già vivevano in condizioni precarie. In questi minuti in corso a Roma c'è la presentazione del rapporto Caritas sulla povertà nella capitale intitolato significativamente false ripartenze. Nicola Ferrante ha intervistato Giustino Trincia, direttore Caritas Roma. La povertà a Roma, un rapporto Caritas intitolato false ripartenze. Perché col punto interrogativo? Qual è lo stato della situazione? I punti interrogativi sono molteplici, anzitutto per il presente e per il futuro, purtroppo per la follia della guerra che ci getta in condizioni particolari anche incertezza. Poi ripartenze ma per chi? Dal punto di vista dei poveri, delle persone in condizioni più disagiate, noi non abbiamo grandi segnali di ripartenza, non ci sono miglioramenti effettivi. Qualcuno magari ha ripreso a lavorare, molti purtroppo hanno ripreso a lavorare in nero e questa non è una cosa senz'altro positiva. Poi ripartenza con chi? Come? Qui occorre un grande impegno corale della città, perché ad esempio il PNRR non può essere solo legato alla costruzione di opere. Va ricostruito con un tessuto di relazioni sociali. È una grande opportunità per rimettere al centro l'uomo, la persona, la dignità umana. In Vaticano poco fa il Papa ha ricevuto la Fondazione Italiana Autismo alla vigilia della giornata dedicata a questa patologia. Francesco ha rilanciato il suo forte appello per una società più inclusiva. Voi date un valido contributo alla lotta contro la cultura dello scarto. Le parole di Bergoglio. Al termine dell'incontro i ragazzi hanno distribuito cibo e pizze ai senza fissa dimora. Alessandra Camarca ci parla adesso di una scoperta importante che riguarda il nostro DNA e che consentirà notevoli passi in avanti per la medicina. Il nostro genoma, l'insieme cioè del patrimonio genetico che caratterizza ogni organismo vivente, non ha più segreti. La mappatura del DNA era cominciata più di 20 anni fa, ma era rimasto un 8% ignoto, che ora è stato finalmente sequenziato. I risultati sono stati pubblicati in un numero speciale della rivista Science che a questo importante traguardo dedica la copertina. Si tratta di una svolta perché adesso sarà possibile fare notevoli passi avanti nella medicina personalizzata, ovvero una sorta di cura su misura del nostro DNA. Così come significative saranno le ricadute sulla diagnosi di malattie genetiche rare finora impossibili da riconoscere. Sarà possibile studiare meglio anche le caratteristiche genetiche di alcune popolazioni, capendo perché in alcuni territori sono più diffuse alcune patologie o perché in alcune zone si registra una particolare longevità. Entusiasti, i ricercatori che per far capire meglio l'importanza di questo raggiungimento spiegano era come avere la mappa di New York senza Manhattan. Poco fa nella chiesa di Santa Chiara, in piazza dei giochi delfici a Roma, si sono svolti i funerali di Maria Romana De Gasperi, primogenita di Alcide, scomparsa il 30 marzo. Come avete visto, ad assistere alle esequie c'era anche il presidente Mattarella. Torniamo adesso a parlare della guerra in Ucraina. Dall'Italia continuano a partire aiuti per la popolazione, diverse realtà di ispirazione cattolica fra cui l'associazione Giovanni XXIII, Pax Christi e Foxy vanno dato vita all'iniziativa Stop the War. Stiamo vedendo le immagini della partenza di alcuni pulmini con aiuti appunto da portare in Ucraina. Sentiamo allora l'appello di Chiara Mirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, tra le realtà promotrici di questa iniziativa. Oggi con i ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti, insieme ad altre 33 associazioni, si parte per una missione umanitaria Stop the War a Leopoli, in cui vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza, portare aiuti e accoglienza a questi nostri fratelli in un momento così drammatico. Unirci all'appello del Papa a fermare questo massacro. Basta con la guerra, con la follia di questa guerra. È tutto, vi lascio al meteo. Poi terza pagina è ora solare. L'informazione di TG2000 torna alle 14.55. Buona giornata. Grazie a tutti.